Il sogno dell'arte continua, la mostra che si sta svolgendo presso la scuola grande di San Teodorio, la letterale porta alla sua Felice, un quadro potente costituito da tocchi dorati e rossi che danno vita a questo mitico e simbolico uccello, che appunto ricorda la rinascita. E' dunque un messaggio recondito a quello che l'artista ha voluto inserire all'interno del dipinto. L'essere umano, ripensando appunto a questo mitico e simbolico uccello, trova la forza di rigenerarsi, di ripartire nonostante le sconfitte della vita. Non è un caso tra l'altro che questo animale porti anche il nome di un teatro che da una triste sorte appunto ha ritrovato la sua potenza in una nuova rinascita, la Felice di Venezia. Quindi in una sorta di dicotomia stabilita tra il dipinto e il prestigioso teatro veneziano, Vania Perale gioca sulla capacità dell'uomo di saper rinascere e di saper ritrovare la propria via. Grazie a tutti. Grazie a tutti.